Sono Don Cristiano Rezzi e Pietro Lanati, due benemeriti di quest'anno a Stradella. Lo ha reso noto il Comune che ha indetto per la prossima settimana la cerimonia di assegnazione nella sala del Consiglio Comunale. Dopo tanti anni di servizio i due sacerdoti hanno infatti da poco lasciato la città in base alle disposizioni della Diocesi di Tortona che li ha destinati ad altre parrocchie. Le benemerenze verranno attribuite a Don Cristiano Rezzi e a Monsignor Pietro Lanati che sono stati trasferiti dalla sua eccellenza Monsignor Viola. Ma le benemerenze intitolate ai Santi Nabore e Felice, martiri cristiani uccisi nei pressi di Lodi il 12 luglio del 303 d.C. sono soltanto una parte delle celebrazioni che quest'anno si sono ampliate diventando una piccola rassegna culturale cittadina. Il Comune, la parrocchia e la Proloco con associazioni identi del territorio hanno infatti organizzato un programma di 10 giorni che animerà Stradella fino a lunedì fra incontri culturali, visite guidate e degustazioni di vini, spettacoli di cabaret e concerti. Gli eventi, eventi che dureranno più di una settimana, ci saranno una serie di eventi eterogenei per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti, eventi culturali, eventi conviviali, musica. Ci saranno in particolare, poi ci saranno la benedizione della città, ci sarà anche il consiglio, terminerà con il consiglio comunale in forma sonnella in cui saranno date le benemerenze cittadine Santi Nabore e Felice a Don Cristiano Rezzi e Monsignor Pietro Lanati. Quindi tanti eventi per ritornare alla normalità ma soprattutto per un evento nuovo che a Stradella non c'è mai stato. È un evento completo, quindi anche culturale. Hanno già avuto diverse prenotazioni, sono di successo, ci saranno visite guidate alla Basilica di Montalino, al Palazzo Comunale, alla Torre Campanari, al Palazzo Ramoldi, ai Musei Civici, ai Giardini Villanai, al Teatro, al Monumento di De Pretis. Quindi sono tanti percorsi e già il successo è elevato. Le richieste sono molte. Grazie.